E ora nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alla salute e prodotta da Teledeon. Oggi Giuseppe Labianca ci parla di ritenzione idrica. Soprattutto con l'arrivo del caldo, uno dei sintomi più presenti è rappresentato proprio da ritenzione idrica che si riflette soprattutto a livello degli arti inferiori, quindi gambe pesanti e dolenti, con caviglie e piedi spesso gonfi. Ovviamente questa condizione fa riflettere un'alterazione di quella che è la microcircolazione e un'alterazione del ritorno venoso. Quindi è possibile andare ad agire su questa condizione sia a livello farmacologico, chiaramente, sia a livello fitoterapico, a livello dietetico e grazie all'attività fisica. Partendo dall'attività fisica che dovrebbe essere alla base di ogni stile di vita sano, è possibile sfruttare l'attività fisica aerobica perché lavora meglio sul microcircolo e, se dovessimo fare un paragone, è come se aiutasse il drenaggio venoso, quindi è come se stessimo facendo un massaggio drenante, grazie all'attività fisica aerobica. Per quanto concerne invece la dieta, sicuramente uno dei primi passi è quello di andare a eliminare tutti i prodotti confezionati e i junk food, i cibi spazzatura. Così facendo non solo abbassiamo il carico infiammatorio della dieta andando a eliminare parte di acidi grassi saturi, ma anche e soprattutto il sale, perché sapete benissimo che il sale aumenta la ritenzione idrica. Stiamo parlando di ritenzione idrica, ma il termine tecnico per definire questa condizione è in realtà edema, ed è una condizione clinica importante. Inoltre è possibile andare a definire un profilo alimentare con più alti acidi grassi mono e polinsaturi, quindi un profilo tipicamente antinfiammatorio, sfruttando per esempio semi oleosi e frutta secca. Andare a eliminare le carni grasse e preferire quindi carni magre, preferire il consumo di pesce alla carne e abbassare il carico glicemico. Come? Sfruttando il cereale integrale, la pasta integrale, più legumi e sicuramente l'apporto di fibra alimentare associata ad ogni pasto. Così facendo non solo si avrà un miglioramento di quello che è l'edema, ma anche si perderà qualche chilo e questo ovviamente soprattutto in una condizione di sovrappeso e obesità è utile. Per quanto riguarda il trattamento fitoterapico invece è buona abitudine consumare il tè delle 5 o comunque una tisana, soprattutto se hai frutti rossi, in quanto uno permetterà il drenaggio e due i polifenoli contenuti miglioreranno il microcircolo. Per quanto concerne invece i principi attivi più utilizzati abbiamo sicuramente la lespedezza, la pilosella e la betulla.